Quaresima, seconda settimana, venerdì. Quaresima, tempo per riflettere, riflettere sull'azione di Dio nella storia, la nostra storia, riflettere sull'agire dell'uomo, del cuore dell'uomo, dei vari fratelli due pensano a salvare Giuseppe, il primo è Ruben e suggerisce di non spangere il sangue, magari gettarlo in questa cisterna nel deserto, non bisogna colpirlo con le nostre mani. I fratelli continuano nella loro azione malvagia, lo spogliono, poi si mettono a prendere cibo come se fosse indifferente quel gesto. Uno dei fratelli Giuda suggerisce ancora che guadagno c'è a uccidere nostro fratello e la nostra carne, lo ascoltano, passano dei mercanti, lo vendono. Giuseppe così fu condotto in Egitto. L'uomo pensa a tramare, Dio guarda molto più lontano per la vita. Con quel giovane Giuseppe salverà tutto Israele. Oggi, come allora, l'uomo vende ancora l'uomo, vende il fratello, la sorella, la donna, per parti, i piccoli, i grandi, in periodo di pace, in periodo di guerra ancora più. Per venti sicli d'argento, come allora per Giuseppe, c'è di mezzo il danaro. O per trenta monete d'argento, come fece Giuda, vendendo Gesù. Ma chi è venduto in ogni fratello e sorella è sempre Gesù. Ecco il cuore di Dio. Dio ha tanto amato il mondo, da dare il figlio unigenito. Il cuore di Dio è tutto amore. Gesù nel Vangelo, il Vangelo di Matteo, parla all'uomo, parla ai capi. I capi dei sacerdoti, agli anziani del popolo, dovrebbero intendere meglio per insegnare, formare. È un riepilogo della storia di Israele in questa parabola. Gesù inizia dicendo, ascoltate, storia di Israele, storia del mondo, è la storia nostra. I delitti sono i nostri peccati. Ascoltate. Ma chi sono gli altri? Quelli che riceveranno il regno al posto di chi non ha corrisposta. Sono coloro che sono capaci di riamare Dio. Maria, Maria, è il modello supremo. È tutta nel suo sì. Un sì per la vita. La vita è Gesù. Il figlio di Dio che ci sa. La madre del figlio di Dio. Con il suo sì per la nostra salvezza. La madre del figlio di Dio. Grazie a tutti.